Una preziosa occasione di riflessione sulla Evangelii Gaudium, l'esortazione apostolica di Papa Francesco sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale. È stata proposta domenica scorsa dall'Ufficio Catechistico della Diocesi per i referenti parrocchiali per la Catechesi. Monsignor Lino Goriup, Vicario Episcopale per la Cultura, ha introdotto la prima parte, la trasformazione missionaria della Chiesa nella crisi dell'impegno comunitario. Quello che ci chiede il Papa è di aprire il cuore e di aprire l'azione evangelizzatrice della Chiesa a tutti coloro che attendono questo annuncio. C'è un mondo pieno di difficoltà, pieno di contraddizioni, che va affrontato non con la medicina della punizione ma con la medicina della misericordia. È un leitmotiv del Magistero di Papa Francesco, ma in quel documento, che è oggetto della riflessione di oggi, questo messaggio è forte, molto incisivo. Davvero il senso profondo è quello di una ripresa di responsabilità dell'intero popolo di Dio come popolo di battezzati per la missione evangelizzatrice della Chiesa. Non è più una missione per soli preti, per soli suori e religiosi, ma ogni battezzato in quanto chiamato alla gioia del Vangelo è responsabile della diffusione, direi quasi del contagio della gioia presso tutti coloro che attendono questo mistero di salvezza per la loro vita, per una vita buona, umanamente e cristianamente. Marcello Musacchi, direttore dell'Ufficio Catechistico di Ferrara, ha commentato il capitolo dedicato all'annuncio del Vangelo. Ecco, il Vangelo si pone all'interno di questo dialogo esistenziale che sa che nell'altro c'è l'aspetto della grazia di Dio che agisce. Dio agisce nell'altro, non soltanto dal punto di vista delle cose che noi percepiamo e quindi diventa molto interessante riuscire attraverso i nostri dialoghi con le persone far capire che hanno risorse, che possono partecipare a questo che è il progetto di Dio e non sono soltanto dei recettori passivi delle persone che stanno in ascolto. Tutto questo significa fare un percorso che attraversa la dimensione culturale e quindi conoscere le diverse culture. La Chiesa è un'unità ma ha un volto pluriforme, un volto che ha tante sfaccettature, è un volto vivo, è un'icona che si muove, che sa sorridere, sa in qualche modo rapportarsi agli altri, non soltanto ma è un percorso che va personalizzato. Ecco, credo che questo sia l'aspetto forse più importante, quello della personalizzazione. La dimensione sociale della evangelizzazione, ne ha parlato Pietro Mattioli, coordinatore dei progetti internazionali del Consorzio Cooperative Costruzioni. Il Santo Padre nell'enciclica, nel capitolo quarto, suggerisce al fedele, al cristiano, di abbandonare il suo modo di vivere la Chiesa come individuo singolo in confronto alla Chiesa, quindi di diventare sociale anche nel modo di vivere, quindi di pensare agli altri in qualunque cosa, non la Chiesa per l'individuo stesso, ma la Chiesa come veicolo sociale per aiutare gli individui ad inserirsi in maniera più comune nella collettività e soprattutto la Chiesa deve colmare probabilmente, ribadisco, quello che lo Stato non è più in grado di fare, con i piccoli gesti simbolici che lui adesso siamo abituati a vedere che quotidianamente fa e che devono servire a noi di esempio per smettere di pensare prima a noi stessi e poi agli altri, ma viceversa. Qualunque azione che noi facciamo quotidiana deve essere mirata a un vivere comune, a un vivere insieme nella collettività. Ecco insomma.